madonna quanto è grosso reggita ragazzi bentornati sul canale di fumetti fatti sono angelo maslow il futuro e oggi parliamo dei nuovi pg che arriveranno domani con la batch e lo story event di vegeta però l'altro atto dell'episodio di super o dal film battle god di l'abbiamo già visto comunque in questi giorni eccolo qua in tutto il suo splendore la ssr è bello ragazzi questo pg quanto sono fiero di poter dire che questo pg è arrivato prima sul globo vediamolo direttamente alla forma pur incredibile ragazzi incredibile la leader vabbè ragazzi è una buona leader però comunque rimane abbastanza standard niente di eclatante è un super e a cappi attacchi difesa al 40 per cento nulla che non esista già con la special ragazzi fa il furious gallic gun che si aumenta l'attacco di tanto ovvero un 50 per cento per un turno quando è infigia anche su premio da meggio un bel boost il moltiplicatore del key meter e del sa 10 è molto alto ragazzi per essere una una ssr che va a tour che non è un dock on esclusivo molto interessante ma la cosa più bella di questo pg ragazzi sta nella passiva e l'hanno fatto veramente grosso come pg per essere un non dock on esclusivo attacca e difesa 100 per cento bello stabile grosso non è sicuramente il dps della vita non è quello che ci interessa ma ha un boost della difesa molto alto ci permetterà comunque di avere una bella base solida come tanking ma non solo questo pg ragazzi a un terra intera gli attacchi normali abbiamo visto nel video che non presentato sulla pagina ufficiale ovvero c'è praticamente il counter di questo pg ragazzi si mette davanti a bulma è stupendo che bello molto molto interessante inoltre avevamo già visto comunque nella prima parte che c'erano linkato questo pg anche il fiori mod quando gli hpp scendono al di sotto del 30 per cento una sola volta nel nell'incontro lui va in fiori mod quindi come se si trasformarsi un po come virus insomma per quel turno è immortale quindi non subisce danni e in base al numero di chi chi si dà avrà special diverse il big bang attacchi il final flash e il foolish gallic gun molto 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 bello ragazzi tutto sommato sono anche buoni golden warrior prodigi super saiano roger lineage berserker prepar for battle e shattering the limit bello bello veramente veramente un grosso g vediamolo a full ability le statistiche sono veramente alte anche full ability la difesa soprattutto è spicca picca veramente tanto su questo pg ragazzi c'è tanto da dire al di là della bellezza e dell'utilità di questo pg che potrebbe sicuramente essere utile anche nella roda anche se comunque non c'è una effettiva riduzione del danno ma solo un aumento delle sue statistiche difensive quindi anche si però bisogna vedere vale la pena pullare nella batch domani scopriremo com'è la batch se i due pg ssr saranno soltanto lui e virus molto probabilmente questo pg avrà un rate molto alto e forse forse una pullatina specialmente se ne avete tante da parte la merita sicuramente vediamo anche virus che non ha confronto al vg abbiamo appena visto non è questo enorme pg è caruccio vediamolo direttamente a pur carine comunque entrambe le artwork leader da nuker ovvero int type 33 per cento per ogni sfera int presa diciamo che non è che avessimo tanto bisogno di un nuker in questo momento però ok il super attacco ragazzi aumenta di 30 per cento per 6 turni la sua difesa e causa supreme damage e la passiva è un bel 120 per cento di attacco al lancio della specie il caruccio ragazzi non è sicuramente il pg della vita in questo caso i link comunque sono buoni ma sono quasi i classici di builds ovvero innocent prodigy e c'è questo berserker che condivide con il vegeta che abbiamo visto prima c'è questo berserker che è un po' migliorata di quello agl del torneo diciamoci la verità c'è niente di niente di sicuramente essenziale da avere però trovate bene tanto la sa è abbastanza farmabile con i numerosissimi i virus tech che si trovano mentre invece parlando di farming ragazzi il vegeta free to play è qua c'è un po' da parlare vediamo la sr che si troppa in game è in forma base vabbè la vediamo tranquillamente agl type che è difesa al 30 per cento abbastanza inutile che causa su extreme damage con la specie niente di che la passiva abbiamo visto comunque già nell'anteprima 2 chi attacca e difesa 40 per cento quando il nemico è uno solo e i link sono saiyan warrior race prodigy royal lineage berserker e prepar for battle questo pg ragazzi andando a ur diventa il vegeta super saiyan 2 e bulma attenzione quindi il fatto che ci sia il suffisso bulma nel suo nome non rende farmabili i vegeta super saiyan 2 e questo è una grandissima pecca è veramente un peccato perché sarebbe stato veramente bello poter aumentare la sa i vari vegeta super saiyan 2 i vari e non è che ce ne stanno tanti però sarebbe stato molto meglio però almeno almeno quello ci servirà aumentare la sa a quello str pullabile tutto sommato comunque ragazzi questo è un buon pg anche se è free to play la leader agl più di chi ha capito di difesa 50 per cento non fa schifissimo supreme damage con la special senza effetto secondario mentre invece la passiva è tutta ragazzi è un più di chi ha attacco e difesa 50 per cento quando il nemico è uno solo quindi non male certamente non fa grossi danni sicuramente non è il pg che si mette anche lui comunque ha i counter o comunque il problema è che non c'è n'è che tank non è che lo puoi mettere a tankare e poi i counter cioè non stiamo parlando di un super vegeta comunque è un free to play però vabbè carino carino i link sono golden warrior, saiyan warrior race, prodigy, royal lineage, berserk anche lui e prepare for battle io cosa vi consiglio di fare? sicuramente se pullate la str è da maxare un'altra cosa che vi consiglio di fare tenetevi una copia di questo bello pompato potreste dare un pochino di ability magari se vi può essere utile perché comunque senza ability il pg ragazzi è questo molto discreto con l'ability non è che cambi tanto ma almeno diventa utilizzabile in qualche modo però per il free to play è un'aggiunta molto interessante e vi consiglio di conservarvi una copia anche della forma sr che vi potrebbe tornare utile nello scontro contro freezer lr visto che comunque in quello scontro servono i free to play e quando lo affrontate in forma sr i free to play agl sono sacri diciamo che utilizzare quello in forma sr e questo insieme vi darà una grossissima mano e questo ragazzi era tutto per quanto riguarda i pg che arriveranno domani adesso la domanda è vale la pena pullare? aspettiamo domani per scoprire se la batch sarà scontata tipo a tentastorno come di solito fanno con questi pg esclusivi aspettiamo di sapere all'interno della batch se ci saranno solo loro due come ssl oppure se ne inseriranno altre poi valutate bene ragazzi perché questi pg sono carini soprattutto vegeta è molto utile però io consiglio ovviamente la pullata solo a chi sta portando avanti il proprio team str ed è già quasi completo vuole avere un'aggiunta in più anche per cambiare un po' il volto di questo team che comunque con l'aggiunta del vegito che andrà delle R abbiamo visto ieri che all'anniversario arriverà un Gohan Kid che si potrà portare addirittura a livello 140 il team man mano sta acquisendo degli elementi nuovi e interessanti quindi ragazzi il mio consiglio è pullate soltanto se siete veramente interessati a questo pg e valutate bene perché comunque in settimana arriverà anche la batch di Trunks LR e subito dopo ragazzi arriverà Golden Freezer quindi valutate bene io personalmente sono molto 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 interessato a questo vegeta mi piacerebbe un sacco pullarlo molto più di Trunks LR quindi se riesco quasi quasi una pullata la faccio devo prima valutare quando domani esce la batch come è questa batch cerchiamo di capire qual è il rate perché potrebbe essere veramente alto con questo ragazzi è tutto io vi do appuntamento a un prossimo video forse in giornata riesco a fare anche un'analisi dettagliata della batch di Trunks LR e soprattutto vedremo il legito il legito che andrà dell'R finalmente ce l'hanno dato ufficialmente noi ci vediamo un bacione i vostri amici mangiati sui frutti non mi raccomando mettete like, chiudetevi al canale e se volete supportarlo fate una bella manzione lo mangiare ciao